benvenuti bambini giochiamo insieme conoscere il codice stradale è importante saper distinguere segnali stradali ci rende esperti esploratori in pochi passi impariamo e giochiamo ciao a tutti sono Giuliano vostro amico e vigile urbano partiamo alla scoperta il semaforo è fondamentale non ce lo possiamo dimenticare con il verde non tardare solo adesso puoi passare con il giallo vai pianino perché il rosso è già vicino se il faretto rosso vedi stai ben fermo sui due piedi bambini cosa fate sulle strisce quando attraversate? se la strada volete attraversare sulle strisce dovete passare ma prima di tutto a destra e sinistra guardare sono un posto sicuro sul quale passare se dall'altra parte della strada dovete andare altri poi sono gli elementi fondamentali questi si chiamano segnali stradali se incontrate un triangolo c'è un pericolo all'angolo un cerchio a bordo rosso dice quello che non posso se in un cerchio c'è 50 mi becco una multa già 60 ma una freccia verde o blu ti fa andare dove vuoi tu ehi voi siamo i segnali stradali pensate davvero di conoscerci bene? allora giocate con noi iniziamo se una forma triangolare cosa sto ad indicare? pericolo divieto obbligo se son d'obbligo sono tondo? si no se la strada vuoi attraversare che colore devi aspettare? giallo rosso verde yeee grazie Giuliano per i tuoi insegnamenti consapevoli di ciò che dobbiamo guardare ora più al sicuro possiamo camminare grazie 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 grazie